Sto! Pausa a mangiare! Scusa a mangiare! Tutti i suoi uomini... Tutti i suoi uomini... Tutti i suoi uomini... Tutti i suoi uomini... Mami, vedi, metti senza salsa per piacere... A me porre la carne... E per capoe... A me porre la carne... Eccolo, eccolo! Eccolo, guarda, che macchina? Ma tutto che è una macchina, è riuscissima. Come si può vedere, la mia macchina, e poi assurdo il comizio di tempo spagnolo e solo... Buon appetito! Come si può vedere, la mia macchina, e poi assurdo il comizio di tempo spagnolo e solo... A preluitare! A preluitare! C'è stata la mia macchina, è un figlio di tempo spagnolo e non è iniziale, non è iniziale, non è iniziale... guarda, 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 guarda se fai voglio farlo ma ci sono i miei valori tipici del terreno ma mamma mia allora, si vede che stanno a fare il figlio non sai il figlio non sai pure 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 il figlio 100% ufficienza 101% 30 grammi quanti? non sai pure il figlio 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 on contento la missione è compiuta la bella giovane squadra di San in un formato e curioso un fenomeno contesto e un fenomeno segnale e un fenomeno segnale e un fenomeno segnale da Boccia riposano il pancatto e due parti certini per colpire il centro e la fine del Castellani è un po' sicuro come dice la cia è in volante in forma della Roma bisogna non sapere come dice l'anno scorso abbiamo sbagliato in un anno in un altro momento quindi per il punto di vista il scatto ormai viene poco di rinzio e mi ha contenzione di rinziolla che tanto l'anno è un po' male quindi allora sto facendo solo ma è un po' di chiedita non è un po' di mattone ma non è un po' di rinzio 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 ma non è un po' di rinzio anche questa cosa Grazie. Grazie. Grazie.